Ben trovati a voi tutti, eccoci al nostro appuntamento con la rubrica Insieme, protagonista quest'oggi la spiritualità assieme alla cultura al mondo del volontariato locale. Raccontiamo l'iniziativa proposta nuovamente anche in quest'estate 2024 dalla Fonda Copperfeltre, iniziativa che porta ad aprire i palazzi e i luoghi sacri del territorio feltrino. È con noi il Presidente dell'Associazione Rino Dalben, che saluto e ringrazio. Ben trovato Rino. Grazie a voi. Grazie del tempo che ci dedica per parlare quindi di questo progetto chiese e palazzi aperti nel territorio feltrino, abbiamo detto nel periodo estivo, che è una progettualità che si rinnova ormai da tempo, giusto? Sì, noi avevamo iniziato con un progetto i palazzi del potere e poi l'abbiamo trasformata qualche anno fa in palazzi e chiese aperti. Ecco, è un progetto che ci dà anche con il Comune di Feltre la possibilità di aprire appunto dei palazzi e segnatamente la Sala degli Stemmi, la Sala Consigliare e il Monte di Pietà. E invece in accordo con l'Arcprete della Cattedrale di Feltre, Don Angelo Balcon, le chiese di San Giacomo al Centro Storico e della Santissima Trinità e poi fuori delle mura la Cattedrale, il Battistero, la Basilica Minore dei Santi Vittore e Corona e le due chiesette di Umin e di Celarda. Ecco, poi vedremo assieme magari anche qualche immagine di qualcuna di queste chiesette, dei palazzi che sono stati menzionati con calma, ma qual è lo scopo di questa progettualità? Intanto, Presidente, raccontiamo, ricordiamo anche a chi ci segue lo scopo dell'Associazione Fonda Cooper Feltre che sappiamo avere una storia ultra trentennale ormai. Sì, ormai sono dal 91 che è nata questa associazione, il nome di per sé è mutuato dal Fondaco delle Biade e pensavamo, insomma, un fondaco che aveva le granaglie per i periodi di crisi e abbiamo mutuato questo, la cultura, per portare un po' la cultura in quello che è Feltre, il Feltrino. Quindi la nostra missione è questa, insomma, tentare di portare le bellezze che ci sono a Feltre e nei dintorni del Feltrino. E tutto questo viene fatto grazie ai volontari. Quali sono i numeri della vostra associazione? Allora, adesso abbiamo circa 20-22 volontari che presidiano i siti, siamo circa 130-140 iscritti e 11 colleghi del Consiglio Direttivo. Sono persone che mettono a disposizione gratuitamente il proprio tempo per la collettività, dunque. Sì, è così. Noi cerchiamo di valorizzare quello che io dico sempre il volontariato con la V maiuscola. Ecco, quindi c'è la disponibilità di queste persone, giovani e anche meno giovani se vogliamo, ma specialmente con i giovani noi abbiamo un rapporto che da anni ci dà la possibilità di far crescere, ecco, queste persone nel senso proprio di gratuità, di dare un qualcosa del loro per la collettività, ecco, sempre sulla base culturale che è un po' la nostra missione e lo scopo dell'associazione. Ecco, diamo qualche riferimento ulteriore per l'iniziativa che partirà con il mese di luglio. Quando si svolgerà? Come giornate? Come orari? Ci può dare qualche altra indicazione? Esatto, allora il progetto prevede per le domeniche pomeriggio dei mesi di luglio, agosto e settembre l'apertura di questi siti, normalmente dalle 15 alle 19 per quanto riguarda i siti civici. Ecco, per quanto riguarda invece i siti le chiese, compatibilmente con le sante messe del pomeriggio dalle 15 alle 17, dalle 15 fino alle 18, 15-18, 15-17. Ecco, magari una che possiamo vedere è proprio la concattedrale di Feltre, forse anche grazie Simone che ci segue in regia, riusciamo a vedere le immagini che sono riportate proprio sul vostro sito, davvero ben fatto ed accurato, dove anche il turista può prendere informazioni, dettagli, curiosità su quelle che sono delle vere e proprie perle del nostro territorio. E la cattedrale certamente è un elemento di grande richiamo. Certo, la cattedrale con la cripta, allora abbiamo anche la cripta e collegato a questo chiaramente il battistero che poi si trova a ridosso della cattedrale. Ecco, sono siti sicuramente importanti per le opere contenute e per quello che è la storia, insomma, di Feltre. Ecco, lei diceva Rino che ci sono delle persone, anche degli ex insegnanti che si mettono a disposizione. Sì, è la nostra ricchezza, diciamo così, è la nostra ricchezza di questi insegnanti in pensione che si sono dedicati all'attività appunto di volontariato per dare conoscenze, le conoscenze loro di darle e di esprimerle per quanti visitatori ci sono. Il target, il pubblico che partecipa alle vostre iniziative, come è organizzato? Sono persone esclusivamente che vengono da fuori provincia, quindi turisti, oppure ci sono anche i feltrini bellunesi che vogliono riscoprire anche i propri gioielli di casa? No, no, ecco, è variegata la cosa, diciamo mondiale, nel senso che noi chiediamo anche per una statistica logica, ecco, chiediamo anche da dove vengono e quindi da tutta Italia, diciamo, ma poi anche addirittura Australia, America, Stati Uniti, insomma un po' dappertutto, che ecco, un target così. Poi ci sono anche chiaramente i feltrini, ecco, che così magari la domenica pomeriggio un'oretta vogliono approfondire la storia del territorio. Il territorio, certo. Allora dicevamo il centro cittadino e la città appunto di feltre, ma non solo il cuore della città. Penso ad esempio al santuario dei Santi Vittore Corona ad Anzù. Certo, insomma millenaria la storia del santuario o basilica minore che si voglia dire, eccoci. E poi anche un paio di chiesette, una Dumin e una Celarda, ecco, che hanno veramente tesori inestimabili, culturali e quindi anche il territorio. Noi teniamo molto anche appunto al territorio, ripeto, con questi due siti. Un altro è un po' un progetto che abbiamo della chiesetta di San Paolo, un quartiere di feltre, ecco, che è chiusa ma al momento, ma insomma pensiamo di poterla aprire proprio se non a luglio, ad agosto sicuramente proveremo con gli abitanti. Allora anche là abbiamo coinvolto gli abitanti del quartiere per l'apertura pomeridiana delle domeniche. Naturalmente non ci si improvvisa, diciamo ciceroni, possiamo dire così, utilizzando questo termine anche simpatico, gentile. Cioè i volontari, immagino io, Presidente, debbano fare anche un percorso di formazione per poter poi veicolare a loro volta indicazioni, suggerimenti, giusto? Questo è un altro degli impegni che abbiamo, che è quello della formazione, perché non ci si può chiaramente improvvisare e guide, insomma, ecco, così, non guide, perché altrimenti andiamo a cozzare con altre questioni legali, ecco, accompagnatori di questi siti. Sicuramente noi abbiamo già tenuto un paio di giornate, 15 giorni fa e continuiamo comunque una volta al mese, continuiamo a dare informazioni, a crescere il bagaglio di conoscenze di questi nostri animatori. Ecco, è la vostra progettualità quindi assecondata da un percorso di formazione, ma penso possa essere interessante, interessante magari anche per i giovani che studiano in qualche indirizzo di tipo artistico, storico, culturale, qualche laureando che magari volesse appunto perfezionare anche le proprie conoscenze, potrebbe essere un bel banco di prova. Voi siete aperti ad accogliere nuovi volontari? Certo, certo. E allora quando c'era il progetto di scuole con l'Università di Trento, con l'Università di Venezia, con l'Università di Udine, abbiamo intercettato alcuni giovani che appunto per poter fare questa animazione dei palazzi, quindi c'è questa collaborazione anche con le università. Certo, e senta Rino, il mondo del volontariato è prezioso e sappiamo quanto significativo sia, a maggior ragione nel contesto nostro bellunese, in una montagna che anche fatica per certi versi più di altre realtà. Come fa la vostra associazione a sostenersi? Cioè le persone possono fare delle donazioni, come fate a mantenervi in vita, ecco diciamo così? Beh, l'iscrizione, l'iscrizione all'associazione e poi ci sono delle donazioni e soprattutto delle convenzioni, ecco noi lavoriamo molto con le convenzioni sia con il Comune di Feltre ma con altre anche associazioni, ecco quindi il sostentamento è dato così insomma. Anche perché sappiamo che è necessario, no? Certo, certo. Ecco, vorrei fare in chiusura un riferimento ancora ai due siti preziosi che verranno aperti, anche quelli, la Sala del Consiglio e la Sala degli Stemmi. Che cosa ci può dire, anche da Feltrino, no? Su questi luoghi? Beh, sicuramente quando la gente entra, diciamo rimane a bocca aperta, nel senso che specialmente la Sala degli Stemmi, ecco con gli affreschi preziosi che contiene e la Sala del Consiglio con i lavori in legno che ci sono, insomma. Ecco quindi la gente rimane un po' così... Ammaliata. Estasiata anche di questo, perché non pensa proprio di trovare ecco un luogo dove ci siano ecco queste bellezze. Quindi noi di buon grado abbiamo questa convenzione con il Comune che ci permette di portare all'aperto ecco queste meraviglie che Feltr ci dà. Bene, allora noi anche grazie appunto all'aiuto di Simone che ci ha seguito in regia, abbiamo visto alcune immagini, alcune note che sono racchiuse all'interno del sito Fondaco per Feltr. Vi invitiamo naturalmente a visitare il sito stesso dell'associazione per avere ulteriori dettagli, ulteriori informazioni su questa iniziativa e poi naturalmente a partecipare di persona ecco per godere e vedere con i propri occhi queste tante realtà. Grazie ancora Rino. Grazie a voi, grazie a voi gentilissimi. E a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci. Grazie a voi.